Buon pomeriggio anche da parte mia. È fuori dubbio che l'intelligenza artificiale e in particolare quella generativa sia oggi al centro dell'attenzione di chiunque lavori nell'industria della comunicazione. Se ne è parlato anche nel precedente panel dedicato allo scenario e al mercato. I lanci di stampa sull'argomento sono ormai più che quotidiani. Non c'è un convegno che non tratti di intelligenza artificiale, fioriscono sugli scaffali delle librerie titoli dedicati. Non potevamo essere da meno naturalmente, quindi abbiamo deciso di costruire un panel, quello che mi accingo a moderare con tutti questi ospiti attorno a me, con un'ottica ben precisa che poi è quella che contraddistingue sempre le iniziative di ADC Group, DNC, il giornale della nuova comunicazione, e gli stessi NC Awards. Mi riferisco naturalmente alla comunicazione olistica integrata a 360 gradi, diciamolo come vogliamo. Insieme agli ospiti che sono qui con me vorremmo provare infatti a ricostruire una visione appunto integrata e olistica di quelle che sono le aspettative, le pratiche e gli effetti dell'intelligenza artificiale su diversi professionisti dell'industria. Ve li presento subito, a partire da Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato di Casta Diva Group. Buongiorno. Benvenuto Andrea. Grazie. Accanto a lui Matteo Ferrando, Head of Data and Tech Innovation di Wavemaker Italy. Grazie per essere con noi. Alla mia destra Francesco Guerrera, Chief Creative Officer di GB22, e al suo fianco Sylvain Carnet, Digital Marketing Director di MediaWorld. Un benvenuto a tutti quanti ancora una volta e grazie per essere qui. Allora, come avete capito, questo panel si compone di un rappresentante del mondo della produzione, uno dei media, uno della creatività e un investitore pubblicitario, come un'azienda, un brand come MediaWorld. A ognuno di loro chiederò di essere il più concreto possibile e di raccontarci, prima di tutto, quali sono le esperienze che hanno avuto sul fronte operativo nell'utilizzo pratico dell'intelligenza artificiale. Non rubo a loro altro spazio e parto subito con la prima domanda per Sylvain. Sylvain, voi avete fatto una campagna recentemente proprio centrata sulla intelligenza artificiale. Allora, ci racconti come è nata l'idea, come si è sviluppata e quali sono stati non solo i presupposti ma anche i risultati della campagna. Noi abbiamo fatto una campagna fatta con l'EI sull'EI, quindi l'obiettivo di questa campagna era in un momento in cui volevamo comunicare sul gender gap, quindi campagna che esiste da qualche anno che si chiama Take His Woman, che è partita un po' come al solito, la campagna rosa, eccetera, eccetera, abbiamo parlato di STEM. Quest'anno volevamo fare qualcosa di più deciso. Nell'anno si può dire dell'EI, diciamo è stato il 2023, è ancora nel 2024, quello che abbiamo quindi deciso di fare è centrare i corsi, quindi corsi che sono regalati alle giovani ragazze, centrati sull'EI. E quindi come comunicavamo questa iniziativa? A dire alle giovani ragazze, registrati, segna, impara qualcosa di nuovo legato alla tecnologia. E abbiamo deciso di farlo chiedendo a giovani ragazzi, a quattro ragazze, lo stiamo vedendo nel video che si sviluppa dietro, di immaginare il futuro, come si vedevano loro il futuro, cosa volevano diventare, cosa volevano inventare grazie alla tecnologia. E quindi abbiamo realizzato proprio questo spot, portando queste ragazze dalla vita reale del 2024 a il loro futuro che stavano disegnando. Quindi chi sognava di andare nello spazio, chi sognava invece di parlare, di creare un linguaggio tra robot e umani, e l'abbiamo realizzato. Quindi è stato visto quasi come un usare l'EI fino a se stesso, però nell'obiettivo di questa campagna crediamo di aver proprio azzeccato l'uso corretto della tecnologia, non tanto per usare la tecnologia, ma proprio per dimostrare quello che già oggi si può fare. Probabilmente il livello di qualità è già superato rispetto a quello che è successo negli ultimi tre mesi e quello che succede negli prossimi sei, però diciamo che è un primo tentativo. Credo fortemente che bisogna interessarsi già da adesso alla tecnologia, anche se non è del tutto pronta, ma perché diventerà uno strumento fondamentale per chiunque sia interessato a lavorare, non soltanto al marketing in generale. Avrà un futuro questa iniziativa? Avete già pensato a un prossimo step o per ora è stato un sasso lanciato nello stagno e starete a vedere? L'iniziativa dei corsi intanto ha avuto un futuro quasi immediato perché sono andati sold out, anche se sold out sono gratuiti, ma abbiamo raddoppiato la quantità di corsi a disposizione, quindi grandissimo interesse da parte delle giovani donne e questo penso che sia un segno molto positivo. Per quanto riguarda l'utilizzo di un'azienda, assolutamente, penso come diverse aziende, stiamo analizzando come utilizzarlo, ma lo stiamo facendo concretamente in tante piccole azioni tutti i giorni, quindi le AI non è da vedersi come un progetto, ma come una serie infinita, ormai quasi di strumenti, perché ogni giorno nascono nuovi strumenti, quindi ci sono tutte queste mappe di AI generativa per qua, per là, chi fa il copywriting, chi fa il video, chi fa il testo, chi fa la voce. Noi stiamo testando, direi non tutto perché è virtualmente impossibile testare tutto, però stiamo testando piccole azioni, magari la creazione di un video, prima di investire nella creazione magari, diciamo, affittiamo lo studio, mettiamo tutto il personale, vediamo, questo interessa le persone, quindi dal mio punto di vista permette l'azienda di fare più cose, cose anche diversamente, quello visto proprio anche un esempio concreto fatto in un'altra realtà, anche non più tardi dell'anno scorso, dove senza andare nel dettaglio, l'AI ci ha permesso di esternalizzare tutta una quantità di informazioni, di insight, che avevamo a disposizione all'interno dell'azienda, ma per cui non avevamo la forza, proprio lavoro, per comunicarla e per renderla utile al pubblico, quindi l'AI ha permesso semplicemente di produrre questo contenuto e rilasciato su tutta una quantità di profili diversi, quindi di centinaia di profili diversi, ognuno ha ricevuto l'informazione che per sé era interessante. Ecco, fare questa cosa qua a mano sostanzialmente era impossibile, così come è impossibile magari produrre 100 iniziative diverse, con l'AI è possibile magari farlo, provare, vedere quale delle 100 funziona, perché probabilmente 95 non avranno un impatto, ma proprio identificare quelle poche cose che funzionano bene e poi investire magari con mezzi anche tradizionali. Grazie Silvain. Francesco, preparandoci per questa chiacchierata ci siamo trovati d'accordo sul fatto che molti dei famosi lanci cui accennavo prima, delle notizie che escono, sono bellissime parole, ma non sempre suffragate dai fatti. Per contro, mi hai anche raccontato che tu con l'intelligenza artificiale generativa hai sperimentato già per un po' di tempo a livello personale e artistico. Allora, la tua esperienza qual è stata in questo tempo che hai dedicato allo studio, alla sperimentazione, e con quali risultati, con quali prospettive? Allora, io ho cominciato a sperimentare con l'intelligenza artificiale oramai nel inizio 2022, quando in realtà già c'era stato un grande passo avanti, e quindi cominciavano a diventare, diciamo, ad appannaggio un po' di tutte le intelligenze artificiali, non soltanto dei developer, che poi sono quelli che alla fine scrivono il codice, fondamentalmente. Quindi quando è diventato facile l'accesso, io ho cominciato a sperimentare su varie piattaforme. Prima a livello personale come curiosità, io faccio parte, diciamo, di quella schiera tra gli apocalittici e integrati, un po' citando Berto Eco, sono più integrato, quindi sono quello che va avanti e sperimenta, forse anche un early adopter. Questo mi permette di sperimentare, diciamo, suffragar la mia curiosità, ma poi soprattutto riversarla nel mio day by day, nel mio quotidiano. Io l'ho sperimentato tanto, essendo un grande amante della typography, anche nell'utilizzo e nella creazione delle lettere. Come strumento, come strumento vero e proprio, anche se bene poco fa, più volte ha citato la parola strumento, tendo a viverla proprio come uno strumento, come un potenziamento della mia creatività. Quando poi sono arrivato come manager, anche a doverlo necessariamente applicare e provare all'interno di un team creativo, devo dire che sorprendentemente è stato anche molto utile nel workflow quotidiano. In che senso? L'esempio che faccio sempre io è se noi facciamo una presentazione potenziale a un cliente, tendenzialmente si presentano tre idee, ecco, diciamo che la media è quella di tre idee. Se si è veramente bravi, una di queste idee il cliente la approva. Vuol dire che il 66, periodico per cento del nostro lavoro è costantemente preso e buttato. Questo in termini economici, in termini di tempo e quindi anche in termini economici è un grande problema per un'azienda di comunicazione o per un'agenzia o per come uno studio creativo. Ecco, io ho provato a inserirlo in quel flusso, cioè ho cercato di potenziare e quindi di annullare alcuni bug di tempo all'interno del team creativo per permettere di aumentare la qualità, cioè per permettere di dare più tempo al team creativo di pensare, ragionare, approfondire, craftare le presentazioni, studiare le presentazioni. Il nostro mestiere che non è fatto soltanto del gesto finale, ma è fatto di tutto il pensiero che c'è prima. Quindi tendenzialmente l'utilizzo in questo momento è questo. moltiplicandosi poi gli strumenti, appunto, non soltanto generativa per le immagini, ma anche per il video, per l'audio, per la parte vocale, chiaramente questo a poco a poco a poco è entrato naturalmente nel workflow e nelle presentazioni in maniera naturale, appunto, quindi senza necessariamente sbandierarlo al cliente, ma più come uno strumento nostro, come uno strumento interno. È come se, io sono cominciato a lavorare nel 99 e si affacciava a Photoshop in quel periodo, è come se oggi noi stessimo vivendo una seconda vita di Photoshop dal nostro punto di vista. C'è uno strumento incredibilmente potente nella parte esecutiva ad oggi. nella parte che viene prima e nella parte di relazione, nella parte di tutto quello che gli americani chiamano il common sense, credo che ancora sia un po' difficile, perché lo sviluppo sta avendo una velocità impressionante proprio nella parte di esecuzione, nella parte di pensiero, nella parte di ragionamento, nella parte di strategia, nella parte che poi è il nostro business, che noi viviamo in un creative business, se non siamo in un service business, il pensiero creativo, quindi il pensiero critico, il pensiero strategico è ancora per fortuna d'appannaggio degli esseri umani. Se posso aggiungere tra i test che stiamo facendo, proprio una riflessione che manca l'anima, cioè l'anima dell'azienda, l'anima creativa, è appunto uno strumento, un pianoforte messo lì, non dà emozioni. Suonato nel modo giusto, chiaramente regala un'emozione piuttosto che l'altra. Io guardavo un panel, un TEDx, dove questa ricercatrice dell'MIT ha fatto questa ricerca cercando di capire effettivamente se l'intelligenza artificiale potessero dare veramente delle soluzioni. la domanda base è come salviamo l'umanità, ok? Tra le opzioni arriva sempre a un certo punto la risposta del eliminiamo l'uomo. Ok, perfetto, non eliminiamo l'uomo, eliminiamo gli alberi, non possiamo eliminare, eliminiamo gli animali. Cioè il senso comune, l'emozione, ad oggi ripeto, non è ad appannaggio delle macchine, è appannaggio ancora per fortuna dell'essere umano. E come professionisti della creatività credo che questo sia una bella speranza. Perfetto, grazie Francesco. Abbiamo parlato di esecuzione, quindi passo immediatamente la parola a un veterano della produzione, non solo cinematografica o televisiva, ma anche degli eventi, quindi produzione to cure. Andrea, anche tu so che hai delle belle cose da raccontarci, delle esperienze e dei casi concreti, quindi a te il microfono. Grazie mille, sono perfettamente d'accordo sul fatto che dalla I non ci possiamo certo spettare emozioni o comprensione di quello che produce, ma semplicemente è un ottimo strumento per fare tante cose. Adesso vorrei farvi vedere due video di cui è bene sentire anche l'audio, quindi mi taccerò durante la proiezione. Parlo prima del secondo, è un video che abbiamo fatto per l'associazione Web3 Alliance, che è un consorzio di aziende che si occupano di tecnologie di questo tipo, e ha fatto un grande evento un anno e mezzo fa circa, io sono il presidente di questa associazione, e quindi ho offerto a questo evento il video di introduzione. E l'abbiamo fatto tutto con l'intelligenza artificiale, nel senso dallo script alle immagini, lo storyboard, poi le immagini, la musica, il montaggio, la creazione di uno speaker finale che vedrete. Ecco, questo è per dire che è uno strumento interessante, ovviamente quello era un convegno sull'intelligenza artificiale, era ovvio che la usassimo per fare il video di introduzione. Il primo invece che vedrete, Castadiva ha circa 20 anni, io ho riassunto questi 20 anni in un video di pochi minuti, ma poi mi serviva anche per andare a Riyadh, dove stiamo aprendo la nuova sede, per far capire agli arabi, ai nostri partner, chi siamo. Poi abbiamo degli investitori francesi, degli altri tedeschi. Insomma, vedrete, abbiamo trovato una soluzione per parlare bene anche a queste persone. Quindi direi di far partire i video in sequenza e poi ci riparliamo. Ciao, io sono Andrea De Micheli. Ciao, io sono Andrea De Micheli. Io sono Andrea De Micheli. Ciao, sono Andrea De Micheli. Ciao, sono Andrea De Micheli. Il fondatore, presidente e CEO di Castadiva Group. Aujourd'hui, noi abbiamo due divisioni, verbi campagni e televisioni prodotti prodotti, che sono stati in tutto il quattro atteggiato, e anche la ricerca e la produzione di programmi TV e film. 110 milioni di euro di fatturato. Abbiamo lavorato circa 200 persone, 16 mapparati tra l'Italia e l'Italia, lavorano 16 mapparati in Italia e l'abrò, 130 internazionale azzaichnie, 150 clienti attivi. Questa ambizia è fueled by una combinazione unica combinazione di forti, una grande portàà internazionale, l'accettamento del mercato dei capitoli, e l'amore e la connaissance della bellezza, del stile e dell'elegante italiens. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Siete pronti per il futuro? www.mesmerism.info L'intelligenza artificiale oggi è già vecchio perché sappiamo che con Sora di Open Eye si possono ottenere delle immagini fotorealistiche assolutamente indistinguibili dalla realtà, mentre a quel tempo era ancora un pochino fumettistico. Usiamo l'intelligenza artificiale anche negli eventi, in questo caso è per la festa delle luci che abbiamo fatto a Bergamo e Brescia in occasione di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura nel 2023. È un video, vi farò vedere, che ha circa un anno. Era un'esposizione di opere d'arte, di light art, di artisti famosi a livello internazionale e una di queste cose, di queste installazioni, era il videomapping che stiamo vedendo alle nostre spalle, che è stato realizzato prendendo migliaia e migliaia di file digitalizzati nella Pinacoteca di Brescia e nella Biblioteca di Bergamo e mettendo insieme tutte queste cose, abbiamo animato un po' tutti questi files ed abbiamo fatto un video di cui vediamo quattro sezioni sullo schermo perché durava un pochino troppo tempo e non potevamo farlo vedere tutto. Un altro uso dell'intelligenza artificiale che facciamo è nel New Business, facciamo fare delle email personalizzate andando a pescare, grazie alla I, i gusti di quelli che sono i nostri destinatari, guardando un po' i loro social network. Quindi vediamo se a uno che ne so gli piace la barca a vela, lo salutiamo con un buon vento e roba minima, come direbbe Iannacci, però efficace. Avevo ancora qualcosa da farvi vedere, questa è una campagna che facciamo nel novembre del 2022, questo l'abbiamo fatto domani, era lo slogan e la nostra immagine è stata ricavata da Dolly facendo un prompt che era Casta Diva, qui ci sono alcune delle altre immagini che abbiamo creato. Ovviamente volevamo far capire che usiamo come strumento questi mezzi, ma poi alla fine è l'uomo che sceglie. I miei mi prendono in giro perché dicono che ho scelto quello perché mi somiglia. C'è un po' di timore nella comunità perché si teme che la I possa rimpiazzare i creativi, c'è uno slogan che dice per rimpiazzare i creativi con la I i clienti dovrebbero accuratamente descrivere ciò di cui hanno bisogno e quindi siamo salvi. Intanto grazie e complimenti perché ci hai fatto capire con immagini concrete alcune delle cose che si potevano fare e sappiamo che con il miglioramento della tecnologia, l'avanzamento della tecnologia se ne potranno fare ancora di migliori. Ora veniamo dopo il brand, dopo il creativo, il produttore al quarto membro di questa famiglia olistica. Passiamo al media che forse è meno sexy in termini di immagini, però è sicuramente stato forse il precursore addirittura di tutti questi ruoli diversi nell'utilizzare l'intelligenza artificiale, a partire dal machine learning dal quale poi è nato il programmatic. Allora, Wavemaker e gruppo WPP lavora intensamente con l'intelligenza artificiale. Matteo, raccontaci che cosa fate e come state andando avanti su questa strada. Grazie mille. Non facilissimo entrare dopo aver visto tutte queste attività creative, specie le testimonianze che Andrea ci ha portato. Come giustamente hai detto, forse il media è qualcosa di meno sexy. Noi siamo un'industria, poi sui numeri, io da bravo uomo del media mi sono anche portato delle slide a supporto per provare a raccontarvi un po' quello che stiamo facendo. Non so se riusciamo a mostrare le slide. Provo a cliccare. Noi abbiamo iniziato a utilizzare come industrie e in realtà come gruppo, come GroupM, l'intelligenza artificiale sin da tempi non sospetti. Dal 2017 le campagne in programmatic gestite da GroupM utilizzano un algoritmo basato sul machine learning, quindi una tecnologia in grado di ottimizzare le campagne basandosi sui dati di storico, che è chiamata Copilot. Quindi tendenzialmente l'intelligenza artificiale per noi e per i ragazzi che lavorano all'interno dei team media è qualcosa che da diversi anni fa parte del quotidiano. Poi ovviamente oltre alle campagne di programmatiche i nostri ragazzi utilizzano l'intelligenza artificiale sempre in ottica di machine learning quando lavorano con i pannelli di Google, perché ovviamente sappiamo che ci sono tutti questi formati che oggi ottimizzano in maniera automatica basati sui dati di storico, quando lo fanno con meta o quando i nostri cloud engineer lavorano ad esempio con Google Cloud per costruire sempre basandosi su tecnologie legate alla AI audience in maniera automatica piuttosto che fare analisi dei dati. Quindi in realtà il dato all'interno del mondo intelligenza artificiale noi lo affrontiamo da tantissimo tempo. In realtà però poi alla fine del 2022, nella seconda metà del 2022, è successo qualcosa che ovviamente ha impattato anche la nostra industria. Novembre 2022 il lancio sul mercato di Open AI ha GPT e ovviamente l'impatto molto forte poi con l'inizio del 2023. L'intelligenza artificiale, in questo caso generativa, che come sappiamo è una derivata di machine learning, deep learning, quindi sfrutta quelle tecnologie ma ci mette un quid in più, ci mette la generazione dei contenuti, è diventata quella che io definisco il nostro coltellino svizzero in tasca, perché in realtà anche se non la sfruttiamo costantemente come possono fare i colleghi della creatività, perché non andiamo nella nostra quotidianità a produrre delle immagini, noi abbiamo bisogno di produrre report, di produrre analisi, di generare contenuti e allo stesso tempo ad esempio di produrre i testi per le campagne search. Ecco, l'intelligenza artificiale generativa diventa un supporto quotidiano per i nostri team, come il coltellino svizzero del boy scout, per riuscire a fare queste cose in maniera veloce, in maniera funzionale e in maniera molto scalabile. Come vedete sulla slide, noi la utilizziamo per fare delle analisi, la creazione dei testi e delle keyword ad esempio per i contenuti sulle campagne ads, la creazione di report, perché come sappiamo grande mole di dati all'interno della generativa, può estrarre degli insight, poi come dicevano i colleghi prima, ovviamente manca l'anima, io mi immaginavo un po' il bello senza anima, ci devi mettere il quid, il fattore umano per riuscire a interpretarli con i dati, però l'AI ci dà un grosso supporto. Come WPP, noi già dal 2023 ci siamo un po' schierati nell'essere una AI company e allora che cosa fa una AI company? Mette a disposizione delle persone che lavorano all'interno del nostro network uno strumento. Noi abbiamo una piattaforma che è accessibile a coloro che lavorano all'interno della holding WPP, che si chiama Creative Studio, gestita dal nostro internazionale, che mette a sistema i motori di intelligenza artificiale più famosi del mercato, quindi noi abbiamo la possibilità di lavorare con OpenAI, con Gemini, con Cloud, sono tutti quei motori che vanno a generare testi, lo possiamo fare anche con le immagini, con Sable Diffusion, con Dali, eccetera, eccetera. Lo facciamo all'interno di un pannello perché ci serve un ambiente safe, perché noi delle volte utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale per interpretare i dati dei clienti che hanno una sensibilità, non possiamo dare fuori magari il report di campagna perché ovviamente si violerebbero una serie di importanti policy di privacy e quindi lo facciamo in un ambiente safe ma con i migliori motori presenti sul mercato. Che cosa ci chiedono i clienti di fare? Noi non siamo così creativi, non possiamo produrre nel nostro quotidiano delle bellissime cose di cui abbiamo sentito parlare, possiamo però arrivare alla sostanza dei contenuti e questo è un esempio di una case che abbiamo fatto per un cliente dove utilizziamo l'intelligenza artificiale generativa per andare a studiare i contenuti del cliente, quindi le landing page, le destinazioni del suo sito web, le sue presentazioni e quant'altro, costruiamo un indice bibliotecario basato sull'intelligenza artificiale che ci permette di sapere che cosa un contenuto ha in pancia e a chi potenzialmente può essere rivolto e sfruttiamo quell'indice bibliotecario sempre con l'intelligenza artificiale per selezionare il miglior tipo di lessico e di linguaggio per il pubblico che dobbiamo andare a ingaggiare con le campagne. Quindi un utilizzo meno sexy dell'intelligenza artificiale ma sicuramente altrettanto efficace e devo dire che per noi è stata una svolta, un cambio proprio di passo, possibilità di velocizzare azioni che prima venivano demandate completamente alla manualità, ecco oggi grazie all'AI e al supporto che WPP ci mette in campo siamo in grado di farlo in maniera molto più snella, ovviamente serve il fattore umano come dicevano tutti i colleghi in precedenza. Grazie Matteo, la riflessione che mi viene da fare è che sicuramente, e ne avete parlato un po' tutti quanti, stiamo ragionando di intelligenza artificiale come tool, strumento di processo, anche se la chiamiamo generativa, in realtà non genera idee, genera risultati delle idee che gli diamo noi. Su questo fronte poi c'è tutto il secondo tema sul quale vorrei farvi di nuovo una domanda. Non abbiamo moltissimo tempo ma sicuramente ne possiamo parlare e mi riferisco a tutte quelle che sono le questioni per così dire etiche legate alla crescita degli strumenti di intelligenza artificiale. Dal mancato rispetto del copyright in fase di costruzione dei software e dei database che alimentano questi software, fino alle potenziali ricadute sul mondo del lavoro. Andrea già accennavi prima, siamo salvi perché i clienti dovrebbero dirci esattamente che cosa, dovrebbero dire all'intelligenza artificiale esattamente cosa vogliono. C'è il tema, grande tema delle fake news e dei deep fake. Mark Reed, il CEO globale di WPP è stato vittima di un deep fake, di un'attentata truffa di qualcuno che cercava di far passare un finto Mark Reed, un deep fake di Mark Reed per quello vero. Quindi i temi legati a questi aspetti diciamo così di lato oscuro sono parecchi. Allora vi chiedo una riflessione su questi temi, come pensate voi che l'evoluzione delle competenze dei professionisti della creatività e della comunicazione in generale possa contrastare questo tipo di rischi? Francesco. Se sulle intelligenze artificiali sono integrato, sull'intelligenza umana sono un po' più apocalittico, nel senso che abbiamo necessariamente bisogno di imparare dagli errori che abbiamo fatto nel passato. E l'ultimo errore che abbiamo fatto è sotto quello di innamorarci in maniera assolutamente spropositata delle social platform, senza chiederci le implicazioni di privacy, senza chiederci le implicazioni sociali, psicologiche che poi alla fine stanno devastando appunto la Gen Z e ne vediamo i risultati quotidianamente anche nelle accademie. Dobbiamo imparare dal passato, cioè è necessaria una legislazione. La comunità europea si sta muovendo, si stanno muovendo tutti a livello internazionale. Noi come Creative Industry dobbiamo essere attenti a quelle che sono le peculiarità e soprattutto i rischi che ci sono nel intanto sbandierare come panacea di tutti i mali l'intelligenza artificiale. E sicuramente dobbiamo anche capire che, esattamente come è successo con le piattaforme social, dobbiamo capire che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale deve essere anche spiegata bene, non soltanto ai clienti, sa basta a dire, ma soprattutto anche alle nuove generazioni. Cioè il rischio che vedo più grande io in questo momento è l'atrofizzazione del cervello creativo, un po' come è stato quando si è passato dalla scrittura al telefonino, oramai è conclamato il fatto che alcune parti del cervello si sono rallentate. Quindi la legislazione da una parte è necessaria per non incorrere in grandi problematiche, ma anche grande responsabilità da parte dei professionisti della creatività e della comunicazione date le esperienze precedenti. Non ultimo è il fatto che già tante aziende a livello globale, tanti nostri clienti internazionali, si stanno già cominciando a preoccupare del fatto di mettere nei contratti l'obbligo da parte dell'agenzia di non dare in pasto, appunto come diceva poco fa, i propri asset alle intelligenze artificiali in maniera sconsiderata, perché non c'è una legislazione in questo momento. Quegli asset poi possono essere riutilizzati da qualunque altro brand. Compresi concorrenti. Compresi concorrenti, in primisi concorrenti. Quindi è necessario in questo momento non correre, soprattutto ripeto, non fare gli errori che sono già stati fatti e che abbiamo freschi, perché i risultati li stiamo vivendo e subendo in questo momento. Silvén, voi come azienda avete già pensato a implementare una policy di questo tipo? Non dico di vietarla, perché non avrebbe senso, però di autoregolamentarla, quantomeno? Io lavoro in un'azienda tedesca, quindi molto attenta alla privacy, a questi temi. Quindi ovviamente abbiamo come Gruppe M una sandbox nel quale giocare in un ambiente safe, che non vada a dare informazioni fuori dalla cerchia dell'azienda. Quindi assolutamente stiamo attenti a questi temi. In modo un po' più ampio credo comunque personalmente che l'opportunità sia molto superiore al rischio. Senza entrare in considerazioni geopolitiche c'è una corsa sfrenata velocissima all'EI e al creare veramente questo strumento. oggi esiste già molto, ma abbiamo ancora visto poco rispetto a quello che si potrà fare. Noi tutti facciamo parte di una generazione che ha visto nascere il computer, più o meno, ha visto nascere internet sicuramente, quantomeno l'internet commerciale sta avvenendo un'accelerazione anche dei cicli tecnologici. Quindi oggi cercare di porre freni, penso che da parte di qualsiasi azienda privata sia fondamentalmente sbagliato vietare. Mi rifaccio un piccolo esempio che facevamo qualche anno fa, lavoravo in Nokia, all'epoca c'era il bring your own device, questa policy che mettevano le aziende che a un certo punto dicevano basta, i dipendenti hanno lo smartphone e noi continuiamo a dare il telefono che telefonava e mandava sms e basta. E quindi arrivava la mail, arrivavano i pericoli in realtà da dentro. Quindi è utile mettere una certa delle barriere, ma comunque definirle abbastanza ampie in modo che le persone abbiano la libertà. Se la libertà non viene data, vedo due rischi. Uno arriva lo stesso, due le persone se ne vanno. E oggi credo che le persone che abbiano la curiosità di portare innovazione, bisogna assolutamente tenerle in azienda e non farle scappare perché l'azienda è troppo rigida. Grazie Silvano. Matteo, tu hai già accennato prima al tema della privacy, io vorrei capire meglio però come lo affrontate poi concretamente, come fate a tutelare la privacy nel momento in cui un'intelligenza artificiale va a pescare dati ovunque, raccoglie qualsiasi cosa. Come si fa a filtrare poi? Allora, i temi in realtà sono due. Il primo, sulla tutela della privacy, e mi collego a quanto ho detto adesso, in realtà è educare le persone e non vietare le cose. Perché se io educo le persone che lavorano con l'intelligenza artificiale a usarla nella maniera corretta, che vuol dire a chiedersi a chi stanno cedendo i dati, a chiedersi all'interno di quale ecosistema stanno facendo quell'analisi, potenzialmente l'80% o il 90% dei rischi io li ho già gestiti. La seconda cosa è costruire degli strumenti che lavorino con l'intelligenza artificiale, ma all'interno di ambienti di cui abbiamo la maggior parte o tutto il controllo. È ovvio che se noi utilizziamo all'interno dell'azienda, utilizziamo in maniera completamente sconsiderata piattaforme di intelligenza artificiale, consumer, che troviamo sul mercato, il CiaGPT di turno gratuito, entriamo, buttiamo dei dati dentro, ovviamente il rischio è quello. Come fanno le persone che lavorano in un'azienda grande come la nostra, 2.000 dipendenti in Italia, a dover capire cosa devono fare? Serve la formazione. Serve qualcuno che all'interno dell'azienda spieghi i canoni, i rischi e ovviamente gestisca le situazioni. Vietare fa andare via le persone e fa succedere le cose lo stesso. Perfetto. Andrea, grazie Matteo. Parliamo di produzione. Se è vero che l'intelligenza artificiale consentirà di ottenere risultati meno costosi, più veloci e più impattanti. Anche a te chiedo cosa pensi del fenomeno dei deepfake. Non sono molto pessimista su questo, nel senso che credo che molto presto ci si renderà conto che qualunque cosa che noi vedremo sarà potenzialmente falsa. E questo in un certo senso ci garantisce. perché se tutto può essere falsificato, qualunque ricatto mi verrà fatto perché mi sarà mostrata una mia foto in mutande mentre faccio qualcosa di sconveniente, potrà essere semplicemente attribuito all'intelligenza artificiale. Cioè si perderà, secondo me, un po'. Cioè la potenza ricattatoria è talmente grande che diventa neutra per tutti, a mio parere. Probabilmente c'è da approfondire questa cosa perché in realtà ci sarà modo di capire se una cosa è vera o non è vera perché ci saranno forse dei waterprint dentro nelle... insomma, è una cosa un po' complicata. Ci saranno tool di intelligenza artificiale che ci aiuteranno a capire che cosa è artificiale. Per quanto riguarda il controllo, secondo me, non c'è, non ci sarà e l'abbiamo perso. Tieni conto che per fare una stupidata con OpenAI si vanno a disturbare un trilione circa di criteri algoritmici perché i token vengono messi in fila in quel modo. I token sono parole o pezzettini di parole. Quindi non c'è mente umana che possa, come dire, pretendere di controllare una roba di questo genere. Cioè ce la siamo già persa. Poi si dice USA innovates and China duplicates, replicates and UE, cioè la nostra Europa regulates, cosa che sta puntualmente succedendo. Gli Stati Uniti hanno speso 70 miliardi per sviluppare l'AI, la Cina 50, l'Arabia Saudita adesso appena annunciato 40, solo UK 5 e noi UE forse 5, Italia forse 1. e poi l'abbiamo visto in un convegno recente sarà spezzettato tra mille università, imprese e start-up, quindi non servirà molto a molto. È un peccato perché in realtà noi abbiamo uno dei computer più importanti del mondo presso Leonardo. Abbiamo inventato, noi europei intendo dire, il World Wide Web. Abbiamo, quando ci siamo messi a fare gli aerei con Airbus, abbiamo vinto contro Boeing, la nostra agenzia spaziale tra le migliori del mondo. Quindi abbiamo tutti i numeri, per non parlare dell'acceleratore di particelle del CERN, gli americani hanno smesso di farli perché hanno capito che erano troppo indietro, non sarebbero mai arrivati al nostro livello. Quindi ci sarebbe stato tutto il modo e forse ci sarà ancora, spero, per... Per quanto riguarda il tema che dicevamo prima, natura, artificio, volevo farvi vedere, chiudere il mio intervento con una campagna che mi è piaciuta molto, che vi faccio vedere. Vediamo l'ultimo video. Forse è un video. Abbiamo sostanzialmente un video in cui si dice che con questi prompt si possono ottenere dei deepfake come quelli che abbiamo visto, ma non c'è nulla che possa competere con la natural intelligence della natura, dove vedremo delle immagini che hanno dei finti prompt all'inizio. Questo per esempio è un albero a ombrello mutante come un fungo atomico, vedi? Questo cos'è? Una tavola gigante per un romantico annullo. Una cena sotto le stelle romantica, sì. E queste sono tutte immagini naturali, cioè fatte da un fotografo che è andato sul posto e ha fotografato queste immagini. Quindi qui i fake sono i prompt. I fake sono i prompt. E lo trovo divertentissimo perché poi, come vedete, sono immagini spettacolari che sicuramente non lasciano nulla a desiderare rispetto a quelle prodotte dell'intelligenza artificiale. È chiaro che con l'intelligenza artificiale non devi andare fino là in fondo per fare la foto. Tra l'altro lo scorso weekend abbiamo avuto la tempesta solare. Qualcuno di voi l'ha vista, no? No, purtroppo non in dire. Al vivo no. Sono in dire. Ho visto quella monza miscella. Meglio delle hai. Bene, quindi... Grazie Andrea. Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata e quindi ringrazio davvero tutti quanti, coloro che ci hanno seguito e chi ha partecipato a questa tavola rotonda, a questo panel. È impossibile, come era preventivabile all'inizio, arrivare a conclusioni sul tema dell'intelligenza artificiale. Quella a cui assistiamo è una trasformazione talmente rapida e per certi versi talmente intensa che sarebbe assolutamente prematuro azzardarsi a fissare un obiettivo di contenuto definitivo. Quello che è sicuramente difficile immaginare e da quanto è emerso da tutta la nostra chiacchierata è che nell'arco di poco tempo, come qualcuno in realtà paventa, creativi, planner, produttori saranno sostituiti da prompt designer. Possiamo fare dei prompt fake rispetto alle cose naturali e vere. Per noi giornalisti devo dire che il futuro si prospetta forse un po' più grigio. Al momento però ci siamo e ci proviamo a restare. Quindi grazie ancora per averci seguito e a fra pochissimo per un giro di microfono fra esperti in un settore che, contrariamente a quello dell'intelligenza artificiale, è in realtà già molto strettamente regolamentato. Come sentiremo nella prossima tavola rotonda moderata da Salvatore Sagone, ciò non significa che anche in questo campo la creatività non possa esprimersi su altri livelli. Parleremo di Pharma and Health. A tutti voi, a più tardi. Grazie. 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 Grazie.